Ciao, buon mercoledì 13 settembre 2023. Stranamente piove e fortunatamente avevo un ombrello in macchina. Piove e io ho gli occhiali da sole? Sì, ho gli occhiali da sole. Che problema c'è? Ti potrei anche dire che sono anche da vista, ma non devo giustificarmi. Viva la libertà di mettere gli occhiali da sole anche quando piove. Certo, sarebbe meglio avere occhiali da pioggia con il tergicristallo, ma non ce li ho. Allora metto questi occhiali da sole bellissimi, con delle lenti correttive bellissime e sono contento così. C'è qualche problema? È vietato dalla legge? No. Viva gli occhiali da sole anche quando c'è la pioggia, anche quando piove. C'è piove? No. Piove, 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 piove. Basta, una parola sola. Piove adesso. Prima non pioveva, adesso piove. E questo pomeriggio potrò dire questa mattina ha piovuto, oppure è piovuto, oppure pioveva. Va bene tutto. Viva gli occhiali da sole. Ciao ciao.